Beh, ovviamente sono contento, sono contento per la Liguria soprattutto, sono contento per i cittadini, perché i cittadini hanno detto chiaro e tonto che vogliono crescere, vogliono continuare, rifiutano i signori del no e rifiutano quelli che non vogliono fare le infrastrutture, quelli che anche solo venerdì scorso hanno fatto un altro ricorso a tal contro Galliera e così via, cioè quelli che non vogliono fare le cose di cui invece abbiamo bisogno. Noi ci impegneremo ovviamente a fare le cose come sul programma, questo mi sembra abbastanza scontato, però volevo sottolinearlo, abbiamo da fare 5 anni di grande lavoro, Genova ovviamente non sarà lasciata da parte, come qualcuno ha detto, anzi qualcuno ha scritto anche, no, noi ci occuperemo anche di Genova, come ci occuperemo anche di tutte le altre province. Il ruolo della Presidenza della Regione Liguria è di occuparsi di tutti i cittadini, quindi non più di solo 650 mila ma 1 milione e 700 mila e d'estate diventano quasi 2 milioni e mezzo, tanto per parlare chiaramente. Ecco, quindi tutto questo è il nostro lavoro, lo faremo con determinazione, con forza, con orgoglio e soprattutto col supporto dei cittadini perché da oggi, anzi no, da domani non lo so, quando sarò nominato non lo so, bisogna che ci sia la nomina, però dalla nomina in poi io sarò il Presidente di tutti i Liguri, non solo di chi ha votato ma di tutti i Liguri. L'ho detto quando sono stato eletto Sindaco e continuo a dirlo anche oggi, noi siamo amministratori istituzionali per cui saremo il Presidente di tutti i Liguri, quindi l'ufficio sarà aperto a tutti i Liguri, a tutti quelli che hanno intenzione di stabilirsi in Liguria, a tutti quelli che hanno intenzione di portare investimenti in Liguria, alle aziende che vogliono venire qui perché questo territorio è attrattivo, a tutti quelli che vogliono venire e vivere qua perché questo territorio è di altissima qualità di vita.